Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ho trovato mia sorella per strada. È un titolo un po' strano, si può dire? Strano, diciamolo. Ragazzi, Diario Segreto, ovviamente supportateli sempre. Io ovviamente lascio mi piace. Ultimamente i video di Diario Segreto sono un po' strani. Ma forse è per questo che ci piacciono, quindi vediamo che succede. Ciao Diario Segreto, io... Ah, così proprio saluta... Sono Zoe. Sono... Zoe. Nata in una famiglia qualunque. Ok. Anche se non eravamo ricchi, eravamo felici. Giustamente. Cosa che desideravo era una sorella con cui giocare. Fermi tutti. Ho dimenticato una cosa importante. Una cosa importantissima. È uscito da pochissimo un nuovo video su Xeo Vlogs. Dovereste intanto andarvi a iscrivere e andare a guardare il video. Giusto per dire così. O andiamo avanti. Ecco perché supplicavo ai miei genitori di comprarmene una. Supplicavo ai suoi genitori di comprarle una sorella? Su Amazon, tipo... Come... Mi prego, andiamo in un negozio speciale a comprare una sorellina. Ma non esistono, cioè... Vabbè, che piccola ci sta il pensiero, dai. Zoe, i bambini non li vendono nei negozi. Meno male, perché già stava iniziando male il tutto, eh. Dai, forse ci salviamo. Inoltre non possiamo mantenere un altro bambino. Ok. Se ti prendessimo una bella bambola. Non credo abbia sentimenti, però vabbè. Non voglio una bambola, voglio una sorella. Eccoci qua. A prescindere dai miei sforzi, non riuscivo a convincerli. Eh, sì, sai, non è che tipo gli stai chiedendo un oggetto. Cioè, comunque è un essere umano in più che deve mangiare, deve investire. Sono soldi, eh. Non è che... Non siamo su The Sims. Tuttavia, l'universo mi ha ascoltata. Cioè? Stavo giocando con la sabbia, non lontano da casa. Quando ho sentito il pianto di un bambino, riuscite a crederci? No. Onestamente no. Ho guardato con cautela nei cespugli. Ok. Ho trovato una bambina. Cioè, tipo kinder sorpresa, così. Quando mi ha vista, ha smesso di piangere e si è messa a ridacchiare. Ok. Nel momento mi ha cambiato la vita. Eh, il destino. Vi siete trovate, vi siete trovate. Ragazzi, ora arriva la parte interessante. Ok. Ma prima di continuare, mettete like al video e munitevi di popcorn. Non ce li ho. Luna di notte non ho popcorn, però... Vabbè, dai. Immaginate la faccia dei miei genitori. quando sono tornata a casa con una bambina che urlava di gioia. Sì. Un po'... Boh. Non penso la terrete. Spero. Mamma, papà, ora lo so da dove vengono i bambini. Crescono nei cespugli. Sì, come i Pokémon. Con l'erba alta. Guardate. Uguale. Sì. Lei è la mia nuova sorellina. I genitori tipo mega impanicati che dicono da dove l'ha rapita sta bambina questa qua. I miei hanno spalancato gli occhi e hanno chiamato subito lo zio Jack. Chi sarebbe lo zio Jack? Era un poliziotto e... Ci aiutava sempre. È un po' incazzato lo zio Jack. Il distretto cercherà i genitori. Ebbè, sarà sicuramente figlia di qualcuno, dico. Sicuramente non della natura. Non siamo su Avatar. Sono certo che li ritroveremo. Speriamo. Mentre la polizia era impegnata nelle indagini, la bambina è rimasta con noi. Ah beh, dai. Li abbiamo persino dato un nome. Barbara. Madonna. Barbara. Barbara. Sembra un nome da vecchia, Barbara. Cioè, non lo so. Dopo diverse settimane, la polizia non aveva ancora ritrovato i genitori di Barbara. Sì, sì, tu, tu, tu. Spoiler, questo video narra la storia di Barbara d'Urso. Ecco com'è nata. Da un cespuglio. Io e i miei ci siamo affezionati tantissimo a lei. Certo. Così mamma e papà hanno deciso di adottarla. Ok. Congratulazioni, Zoe. Ora sei una sorella maggiore. Ottimo. Proprio come è sempre desiderato. Quindi l'hanno adottata, praticamente. Ok. Cioè, praticamente, lei è cresciuta di 26 anni. Lei no. Ok. Greve, quadrifoglio. Attenzione. Ok. Eh, adesso le cose iniziano a cambiare. I primi dispetti, i primi casini. Tutto è bene. No, no, no. In che senso? Era sempre più brava di me. Andava meglio di me a scuola. Boia, si è fatta bellissima Barbara. Attenzione. Aveva più amici. E i nostri genitori facevano più complimenti a lei. No, più che altro vorrei capire esattamente com'è possibile che vanno in classe insieme. Se dovrebbero avere tipo 806 anni di differenza. All'inizio, anche se ero invidiosa, preferivo non dire niente. Ma poi un giorno Barbara ha superato il limite. Cioè? Ha rubato il mio hobby e ha deciso di imparare a cucinare. Ma come l'ha rubato? Ovviamente era bravissima. Le mie torte erano imbarazzanti, mentre le sue erano dei capolavori. Sì, diciamo che la sua sembra un po' tipo il cubetto di Minecraft, quello della terra. Vabbè, ci sta. Non è che te l'ha rubato. Magari l'ha ispirata. Non è che... È stata la doccia che ha fatto traboccare il vaso. Boia. Senza offesa, Zoe, ma non puoi costringermi ad assaggiare la tua torta? Se vuoi ti insegno come si fa. Greve, sì. Avete sentita? Come si permetteva? Dopo quell'incidente mi sono pentita persino di averla portata a casa. Sì, un po' troppo tardi. Diciamo che adesso è cresciuta, però vabbè. La odiavo in silenzio. Volevo solo rimetterla al suo posto. Abbiamo iniziato a competere l'una con l'altra. Ebbè, cosa sbagliatissima. La competizione, ragazzi. Barbara non era nemmeno consapevole. E mi batteva in continuazione senza battere ciglio. Ok. Zoe, hai preso un'altra insufficienza. Non piangere, non tutti. Sono intelligenti come me. Ok. Sta diventando effettivamente pesante la situazione. Volevo dirgliene quattro. Si vantava perché pensava di essere la migliore. Un po' egocentrica, sì. Mi avevo abbastanza. Era arrivato il momento di spodestare la regina. Madonna, e cosa vuole fare? Ucciderla? All'inizio ho deciso di ricordare ai miei genitori che avevano una sola figlia. Sì, però i tuoi genitori potrebbero ricordarti che l'hai voluta tu. Nel senso. Così per l'anniversario di matrimonio ho regalato loro un ritratto di famiglia in cui c'erano solo tre persone. Un'infamata bestiale, però vabbè. Voglio dire, Barbara è stata adottata. Non è del tutto parte della nostra famiglia. Cioè, se volevi risolvere la situazione, hai fatto tutto il contrario. Tutto il contrario. Mia sorella sapeva di essere stata adottata, ma quel pensiero la faceva ancora soffrire. Eh, sì, non è proprio una roba bella da vivere. Mi ha scoppiato a piangere ed è corsa nella sua stanza. Complimenti. Invece di ringraziarmi, mamma e papà mi hanno sgridata. Eh, sai. Zoe, come hai potuto dire una cosa simile? Eh, eh, eh. Mi hanno messo in punizione e mi hanno costretta a consolare Barbara per tutta la serata. Eh, sì, zia, è normale come cosa, eh. Avevo tenuto l'opposto di quello che avevo sperato, cavoli. Eh, già. Dopodiché ho deciso di rovinare la reputazione di mia sorella a scuola. Ma ragazzi, ma questa è impazzita. Ho finto di essere lei e ho mandato ai nostri compagni le risposte sbagliate della verifica successiva. Greve, sì. Efficace, no? No. Perfidissimo. Tutti prenderanno un brutto voto e si arrabbieranno con Barbara. Ora, tipo spoiler, facendo le cose a casa ho dato le risposte corrette a tutti. Purtroppo sono rimasta nuovamente delusa. Mia sorella ha scoperto che qualcuno aveva finto di essere lei. E quindi? Chi aveva mandato le risposte sbagliate? Ok. Così ha avvisato il preside? Oh, no. Greve, sì. Ho capito subito che ero stata io. Alla fine ho dovuto seguire dei corsi extra, mentre Barbara è stata lodata per la sua onestà. Cioè, praticamente tutte le cose che lei faceva per vendicarsi, tutte contro gli tornavano. La vendetta, ragazzi. Buon fatto, Barbara. Sei l'orgoglio della scuola. La madonna. Offa, perché era sempre così fortunata? Eh, beh, diciamo che anche tutte le cerchi le cose. Ero furente. Comunque, esatto, ragazzi. Il potere sta tutto nel quadrifoglio che lei ha preso quando era piccola. Palesemente. Restava una sola cosa da fare. Dovevo fare in modo che i nostri amici la odiassero. Madonna. Oh, pensate un po'. Sono stata io a presentarglieli. E stava talmente simpatica a tutti che hanno iniziato a uscire con lei più spesso. Madonna, ma cos'è un essere perfetto, statizia? Con me. Non potete sapere quanto è brutto quando vostra sorella vi ruba gli amici. Eh, beh. Il giorno in cui dovevo mettere... Ha fatto una torta di se stessa. Rinatto il piano, Barbara ha sfornato per un concorso di pasticceria... Ma è identica, sì. Madonna, fa quasi impressione, posso dirlo? Una torta che aveva la forma della sua testa. Madonna. C'eva abbastanza impressione? Eh, eh, sì. Non avevo più... Sì, esatto, dico, ci sarà qualcosa che... Che non sa fare. Ho invitato a casa tutti i nostri amici. Ok. E ho deciso di fare uno scherzo a mia sorella. Madonna. Che fa la torta? Ragazzi, vediamo che cosa c'è nella testa di Barbara. Oh, come temevo. Zero cervello, solo crema alla nocciola. Non fa ridere. È una torta, si sa, non è che... Qualcuno vuole una fetta? I miei amici hanno aggrottato la... Greve. E nessuno di loro ha riso. No, sì. Perché era tipo per il progetto. Madonna, chissà quanto lavoro ci ha messo. Dio mio. In quel momento Barbara è arrivata in cucina e ha lanciato un urlo di terrore. Ebbè. Zoe, hai rovinato la mia torta. Mi ci sono volute dieci ore per preparare. Porca miseria, dieci ore, zi. Io, io sai cosa avrei fatto? Avrei tagliato il suo busto, vero? E l'avrei messo al posto della torta. Prepararla. I miei amici se la sono presa con me. Che bordello. E hanno detto che il mio scherzo era idiota. Che scherzo pessimo, Zoe. Secondo me sei solo invidiosa di tua sorella. Sì, leggermente, dai. Alla fine mi hanno lasciata da sola e hanno aiutato Barbara a preparare una nuova torta. Ok. Io mi sono chiusa nella mia stanza. Ho affondato la faccia in un cuscino e ho urlato. Tutto comunque, ricordiamoci, che l'ha creata lei sta situazione. Perché mia sorella era sempre così fortunata. Era come se avesse un portafortuna. Eh, fatti ce l'ha. Quella sera sono andata in bagno a lavarmi i denti e ho lanciato un'occhiata nella stanza di mia sorella. Creversi. Barbara era distesa sul letto e giocava con un quadrifoglio rissecchito. Ma che aveva veramente, raga? Ma io stavo scherzando. Era veramente il quadrifoglio? Lo aveva tenuto per tutti quegli anni. In quel momento ho capito. Ma certo, era quello il segreto del suo successo. Super magico. Anche io avevo bisogno di un briciolo di fortuna. E quindi? Io lo rubi? Deciso di rubare il quadrifoglio di Barbara. Greve. Quando mia sorella è uscita dalla sua stanza mi sono intrufolata dentro. E ho iniziato a cercare il quadrifoglio. Vabbè, ma magari se lo... Azz. Ho sentito qualcuno tossire alle mie spalle. Che cosa stai facendo? La ladra. In quel momento mi ha scattato qualcosa e ho detto a Barbara la verità. Sta cercando il tuo quadrifoglio. Cioè, hai detto che gli stava rubando praticamente dentro... È quello il motivo per cui ti viene tutto così facile? Non credo. Altrimenti esisterebbe anche Hogwarts, Silente, Harry Potter. Cioè, non... Che cosa stai parlando? Mi hai rovinato la vita. Avrei preferito non trovarti. Porca miseria. Di davvero che staresti meglio senza di me? Ho annuito. E mia sorella mi ha rivolto un sorriso triste. Ha preso il quadrifoglio da sotto il cuscino e me lo ha dato. Quindi allora mi sa che non c'è magia. Se pensi che questo sia il segreto del mio successo, allora prendilo. Il quadrifoglio è tuo. E io sparirò dalla tua vita. Ovviamente non pensavo che dicesse sul serio. E invece... Quando sono andata a letto mi sentivo una vincitrice. Tuttavia, la mattina seguente i miei genitori mi hanno svegliata. Cioè? Erano preoccupati da morire. Non mi dire che è scappata di casa quella. Madonna, zi, ma questa ragazza è un danno vivente. A quanto pare Barbara aveva fatto le valigie e se n'era andata senza dire niente a nessuno. Non aveva lasciato nessun biglietto. E il telefono era spento e nessun... E indovina di che era colpa? Va bene. Non sapeva dove fosse. Mamma e papà erano nel panico. Ma io ero sicura che mia sorella voleva solo darmi una lecce. Mmm... Probabilmente si sta solo nascondendo. Cheat. Sono sicura che tornerà quando le verrà fame. Certo. Cosa vuol dire quando le verrà fame? Dopo qualche giorno Barbara non era ancora tornata. Ok. Ossino io ho iniziato a preoccuparmi. I miei genitori hanno chiamato lo zio Jack e gli hanno chiesto una mano. Questo zio Jack, cioè, l'ha trovata all'inizio e adesso la deve trovare pure a metà video. Zio Jack, raga, tutti noi. Una polizia non ha riuscito a fare niente. Che leve, come niente? Sembrava sparita nel nulla. Una sera ho sentito che i miei stavano parlando di qualcosa di strano con lo zio Jack. Cioè? La casa davanti al cinema ha abbandonato. Sai chi ci vive? Magari Barbara è lì. Prima... Cosa vuol dire? Abbiamo controllato la casa in Green Street. Nessuna traccia di Barbara. E che fine ha fatto Barbara allora? Scusatemi. Non preoccupata da morire. Speriamo che la nostra ragazza stia bene. Eh, speriamo sì. Mi sembrava tutto troppo sospetto. Che cosa c'entrava la casa di Green Street con Barbara? Possibile che lì ci vivevano i suoi genitori prima? Non ho chiesto niente ai miei. Non volevo ammettere che Barbara era sparita per colpa mia. Vabbè, tanto prima o poi guarda che i nodi vengono al pettine, eh. Vabbè. Dopo un bel po' non avevamo ancora ricevuto notizie su mia sorella. Era come se tra mamma e papà ci fosse una tempesta continua. Eravamo terribilmente depressi. Eh, sai, ti sparisce una figlia. Dico non penso sia carina come cosa, vabbè. Barbara mancava a tutta la scuola. Le persone dicevano solo cose belle sul suo conto. Barbara è così gentile. C'è sempre per me, anche se dovessi chiamarla nel bel mezzo della notte. Madonna. I miei amici mi chiamavano tutti i giorni. Per chiedermi se avevano ritrovato Barbara. Bello, sicuramente proprio deve essere. Se devo essere sincera, mancava anche a me. Ebbè, una sorella è sempre una sorella. È normale, famiglia. Ho capito che non aveva mai fatto male a nessuno. Non avrei dovuto pensare quelle cose su di lei. Eh, già. Il senso di colpa mi stava consumando. Dovevo trovare mia sorella. Io e i miei amici abbiamo appeso le sue foto per la città. Ah, ok. Ci hanno pensato otto giorni dopo a mettere i fogli, ok. Pubblicato centinaia di post sui social per chiedere aiuto. Ok. Sapevo che Barbara non rispondeva, ma le scrivevo comunque e le chiedevo di perdonarmi. Mmh. Barb, scusami. Barb. Ho sbagliato. Non sono migliore di te. Ti prego, torna a casa. Questa comunque è la storia di Barbara d'Urso, eh. Ricordiamoci. Presa dalla disperazione, ho pure chiesto aiuto al quadrifoglio. Ma era tutto inutile. E ho capito che il quadrifoglio rinsecchito non aveva niente a che fare con la foglia. Ma perché l'ha buttata a terra? Una mattina di sole, Barbara è tornata, riuscita a credere. Cioè, come 60 seconds? Cosa è diventata? Anna Montana. Guarda chi c'è. Eravamo al settimo cielo. Ma a me e papà l'hanno abbracciata forte e l'hanno sommersa di domande. Ok. L'ho fregata. Non ho sicura che Barbara avrebbe detto loro che se n'era andata per colpa mia. No, non glielo dirà. Perché ha visto che l'ha chiesto scusa e secondo me... Dai, dai. Perché io sarei finita in un mare di guai? Solo che per qualche strano motivo Barbara non ha detto niente. Ha spiegato che se n'era andata per trovare se stessa. Un po' psicopatica come cosa, però vabbè. E ci sono riuscita. Sono andata a Hollywood e ho partecipato al programma Pastry Context. Come ha fatto esattamente, scusami? Sono arrivata prima e ho vinto un mucchio di soldi. Ok, aspetta, 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 aspetta. Quindi praticamente tu mi stai dicendo che questa è la scappata di casa. I genitori hanno denunciato la sparizione. Tu hai partecipato ad un programma di Hollywood seguito da tutta l'America. E la polizia non t'ha trovata. Vincendo. Quindi probabilmente finendo anche nei giornali. Sui giornali. Non commenterò questa cosa. Andiamo avanti col video. Il programma andrà in onda prossimamente. Ah, ecco. Chiedo perdono. Chiedo perdono. Chiedo perdono. Gordon Ramsay mi ha consigliato di condurre un mio programma. Porca miseria. Siete a crederci. Diventeremo ricchi sfondati. Mamma e papà non hanno sgridato Barbara per essere sparita in quel modo. Eh beh, direi. Ha detto che diventeranno ricchi. Ha tirato un sospiro di sollievo. Anche se quella situazione poteva causare un bel disastro. Dopodiché, Barbara ha iniziato a spendere un mucchio di soldi. Greveci. Pronto ai nostri genitori tutto ciò che desideravano. Beh, ci sta. Ha preso una jacuzzi per la mamma e a papà una macchina nuova di zecca. Boia. Non so che cosa dire. Niente, grazie. Grazie, Barbara. Più di quello, non è che... Ragazze, salite, facciamo un giro. Siamo salite in macchina. Mentre papà ci portava in giro per la città, ho guardato fuori dal finestrino e ho cercato di pensare positivo. Da una parte ero felice che Barbara fosse tornata, ma dall'altra era come vivere di nuovo nella sua ombra. Ebbè. Ogni volta lei diventava sempre più forte in gamba. Stavo ricominciando a odiarla di nuovo. Mia sorella deve essersi a... Azz, in mano c'è un bel po' di soldini, eh. Magari te li dà e stai tranquilla. La situazione stava diventando tesa e mi ha dato una mazzetta. Cioè, io non voglio farla esagerata, ma ci saranno tipo 50.000 euro lì, bo. Rilassa la fronte, altrimenti ti vengono le rughe. Vabbè. Ecco, vai a prenderti qualcosa di carino. Ok. Ho aiutato con orgoglio la sua... Ah, Grefett, sì. Barbara ha sorriso con aria furba e ha detto, pensavi che la mia fosse solo fortuna? Invece ho raggiunto il successo senza nessun aiuto. Solo... Effettivamente il quadrifoglio non ce l'aveva. Per dimostrarti che avevo ragioni. Come ci si sente a perdere, eh? È un po' perfida comunque lei, eh. Si può dire, ragazzi. Male. Dopodiché ho capito che mia sorella mi stava prendendo in giro. E ho capito che Barbara uscisse dalla mia vita. Poteva essere ricca e di successo anche da un'altra parte. Volevo solo che stesse lontana dalla mia famiglia. Eh, ho capito, ma non... Ormai non c'è. Speravo che Barbara ritrovasse i suoi veri genitori. Sarebbe andata da loro e così avrebbe smesso di darmi i suoi nervi. Non è detto. Sfortunatamente, visto che la polizia non riusciva a trovarli, non ci sarei riuscita nemmeno io. Ok. Questa sera lo zio Jack è venuto da noi per cena. Mio padre. Cioè, no, mio zio. Ah, la casa Green Street. Ok. Ok. Greve, zì. Eh, mi sa di sì, zio Jack. Ecco, per oramai... Sputa il rospo, caro. Ok. Ecco che cosa è successo. Mi ha detto che la polizia era riuscita a trovare la vera famiglia di mia scuola. Greve. Ma che in quel periodo mamma e papà avevano già deciso di adottare Barbara. Indovina per colpa di chi? Io non lo dico, ragazzi. Scrivetelo voi nei commenti. Così non avevano contattato i genitori biologici. Ok. Non proprio in realtà. Perché non è detto che i tuoi genitori la manderanno via o che banalmente lei se ne voglia andare. Ok. Spoiler. Adesso scopri che sono tipo dei senza tetto e che non vogliono mai più vedere la figlia. Motivo per cui l'hanno abbandonata dalla neonata. Avrebbero potuto riunirsi con la figlia e tutti saremmo stati felici e contenti. Cheat. Ovviamente io sarei stata la più felice di tutti. Ovvio. Eccoci qua. È già dalla casa, si capisce. Quando sono andata all'indirizzo indicato, ho visto una casa pericolante. Madonna, zi, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. È un po' come la figlia, da qualche parte va preso. Bella sta casa. Grazie. Grazie. No, zi. Fa la spesa per la famiglia povera. Mamma, papà, ho preso qualcosa da mangiare. No. Sì. Ma questa è proprio perfetta, raga. Finalmente. Non potevi comprarne di più. Due egoisti arroganti li hanno strappati i sacchetti dalle mani. Greve. Ho fissato la scena sotto shock. Poi Barbara mi ha vista. Zoe, che cosa ci fai qui? Oh, oh. Momento emotional. Dovrei chiedertelo io. Ci siamo appartati. E mia sorella mi ha detto con aria triste che qualche anno prima aveva scoperto dallo zio Jack che erano i genitori biologici. Ok. Li ho conosciuti. E ho scoperto che la mia eredità genetica è terribile. Da quel giorno faccio il possibile per migliorare. Perché non vuole finire come i suoi genitori. Ci sta, raga. Ci sta. Dopo tutto devo contare sulle mie capacità. E beh. Ho capito che Barbara aveva sempre lavorato sodo per raggiungere i suoi obiettivi. Ecco perché era così brava. Mentre tu stavi lì a concentrarti sull'invidia. Stupida. Mi va a occhi aperti. Mia sorella aveva studiato. E aveva cercato di migliorare le sue capacità in cucina. Barbara aveva anche aiutato i nostri amici. Cioè semplicemente si è cercato di impegnare appunto per non finire così. Perché le volevano... Perché sapeva da dove veniva appunto. Così bene. La fortuna non c'entrava niente. Eh no. La sorella aveva raggiunto i suoi obiettivi da sola. Quando sono diventata ricca ho iniziato ad aiutare i miei genitori biologici. Greve. Anche se non mi hanno mai ringraziata. Eh si vede. Le tue parole mi hanno ferita più di tutto il resto Zoe. Sì però Barbara fattelo dire eh. Potevi anche essere leggermente meno antipatica. Cioè quella che ne poteva sapere. Dico va bene tutto però. Non è che poteva dare per scontato che tu venissi da una famiglia povera cioè. Ho sempre voluto che fossi fiera di me. Invece pensavi che fosse merito di quello stupido quadrifoglio. Finché gli dici... Finché le dici nessuno può essere più bravo di me. O prima o poi sarai brava quanto me se vuoi ti insegno. Dico. Mi dispiace Barbara. Ero accecata dall'invidia. Eh si. Nel profondo sono sempre stata orgogliosa di te. Davvero. Avevo davvero bisogno di sentirtelo dire. Beh dai. Ci siamo abbracciati. Tutto è bene qualche finisce bene. L'ho detto prima. Ho persino versato qualche lacrima. E poi ho capito che era arrivato il momento di pensare alla mia sorellina. Ok. I genitori biologici sono delle persone terribili. E non ti meritano. Sono d'accordo. Dicati di loro e torniamo a casa. Stanno per trasmettere il primo episodio del tuo programma. Andiamo a guardarlo insieme. Non vedo l'ora. Ci siamo presi per mano e siamo usciti. Ok. Ho preso il quadrifoglio dalla tasca e la mamma mia sorella. E che l'ha ridato. Anche se non porta fortuna rimane comunque il tuo muleto. L'importante è crederci. Tieni lo zoi. Il mio porta fortuna sei tu. Dopotutto sei stata tu a trovarmi quel cespuglio. Effettivamente sì. Se la mettiamo in modo generale sì. Se guardiamo il quadro generale. E ho stretto la mano e sono quasi scoppiata di nuovo in lacrime. Ella. Non andiamo sempre d'accordo. Ma so che insieme possiamo affrontare qualsiasi cosa. Ci sta. Avete mai invidiato i vostri fratelli o le vostre sorelle? Palesemente da piccolo. Perché i miei genitori le compravano tutto. Quindi sì. Però in realtà io ho avuto la fortuna di essere l'unico figlio maschio. Quindi diciamo che venivo trattato abbastanza bene. Non sempre. Ma so spesso. Dai. Rispondete nei commenti qui sotto. E non dimenticate di lasciare like al video. Per forza. Anche io sorellina. Mio Dio ma come cammina? Come camminano? Ragazzi. Si può dire che video è incredibile? Ci vediamo alla prossima. Cosa ci insegna questo video? Impegnatevi. Se non volete puzzare di fame. Perché questo mondo fa schifo. Ciao.